Astesco asterisco Federico II di Svevia, lo stupormundi asterisco asterisco. Federico II di Svevia, nato a Iesi il 26 dicembre 1194 e morto a Castelfiorentino il 13 dicembre 1250. Fu imperatore del Sacro Romano Impero, re di Germania, re di Sicilia, re di Gerusalemme e re di Puglia e di Calabria. È considerato uno dei più grandi sovrani del Medioevo, nonché uno dei più illustri personaggi della storia italiana. Federico II era figlio di Enrico VI di Svevia e di Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II di Sicilia. Alla morte del padre, nel 1197, era ancora in fasce e fu affidato alla tutela della madre. Nel 1208, a soli 14 anni, fu incoronato re di Sicilia. Federico II era un uomo di grande cultura e di vasta erudizione. Era fluente in latino, greco, arabo e ebraico. Era un appassionato di filosofia, teologia, diritto, astronomia, medicina e poesia. Fu anche un abile condottiero e un grande politico. Nel corso del suo regno, Federico II si scontrò ripetutamente con il papato, che lo accusava di eresia e di usurpazione. Nel 1227, Federico II fu scomunicato da papa Gregorio IX. Nel 1239, fu nuovamente scomunicato da papa Innocenzo IV. Nonostante le sue controversie con il papato, Federico II fu un grande sovrano. Sotto il suo regno, l'impero del sacro romano impero conobbe un periodo di grande prosperità e sviluppo. Federico II fu un illuminato legislatore e promotore delle arti e delle scienze. Federico II è considerato uno dei più grandi sovrani del medioevo. Fu un uomo di grande cultura, intelligenza e abilità. Fu anche un abile condottiero e un grande politico. Il suo regno fu un periodo di grande prosperità e sviluppo per l'impero del sacro romano impero. Asterisco asterisco i motivi per cui Federico II fu chiamato Stupormundi asterisco asterisco il soprannome Stupormundi, stupore del mondo, fu coniato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Dante ammirava Federico II per la sua grande cultura e intelligenza. Lo considerava un uomo di grande talento e di grande visione. Il soprannome Stupormundi è stato attribuito a Federico II per diversi motivi. Innanzitutto, Federico II era un uomo di grande cultura e erudizione. Era fluente in latino, greco, arabo e ebraico. Era un appassionato di filosofia, teologia, diritto, astronomia, medicina e poesia. In secondo luogo, Federico II era un abile condottiero e un grande politico. Sotto il suo regno, l'impero del sacro romano impero conobbe un periodo di grande prosperità e sviluppo. In terzo luogo, Federico II era un uomo di grande carisma e di grande personalità. Era un uomo affascinante e misterioso, che suscitava ammirazione e stupore in tutti coloro che lo incontravano. Asterisco asterisco il lascito di Federico II Asterisco asterisco Federico II è considerato uno dei più grandi sovrani del Medioevo. Il suo regno fu un periodo di grande prosperità e sviluppo per l'impero del sacro romano impero. Federico II ha lasciato un importante lascito nella storia dell'Europa. Fu un innovatore in campo politico, giuridico e amministrativo. Fu anche un mecenate delle arti e delle scienze. Alcuni dei suoi contributi più importanti includono Asterisco la creazione di un sistema di leggi che unificava i diversi territori dell'impero del sacro romano impero. Asterisco la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente e imparziale. Asterisco lo sviluppo di un sistema fiscale equo. Asterisco la fondazione di università e scuole. Asterisco il sostegno alle arti e alle scienze. Asterisco la promozione del pluralismo religioso e culturale. Federico II è una figura complessa e controversa. È stato un uomo di grande talento e di grande visione, ma è stato anche un uomo di grande ambizione e di grande egoismo. Tuttavia, il suo regno ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Europa. Asterisco la promozione di un'amministrazione pubblica.